Oggi Luigi Gravinese, giovane seminarista andriese, sarà consacrato diacono. La celebrazione è in diretta su Teledeon alle ore 19.30 dalla Cattedrale. Ascoltiamo i dettagli nella scheda. Nuova consacrazione diaconale nella diocesi di Andria. Si tratta di Luigi Gravinese, giovane seminarista per il quale questo momento segnerà l'ultima tappa nel cammino verso il sacerdozio. La celebrazione, trasmessa in diretta su Teledeon, sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Luigi Manzi, il 7 dicembre alle ore 19.30 nella Chiesa Cattedrale di Andria. Ai diaconi sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la Triade, diaconia della liturgia, della predicazione e della carità, con cui serve il popolo di Dio in comunione col Vescovo e con il suo presbiterio. Il diacono può amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, le benedizioni ad esempio, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. San Policarpo di Smirne esorta i diaconi, essendo dedicati ai servizi di carità e di assistenza, ad essere misericordiosi, attivi e camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti. Attualmente Luigi presta il suo servizio pastorale nella comunità del Cuore Immacolato di Maria ad Andria. Grazie a tutti.